Non è fatto, non fai il video oppure Devi premere il primo brano No, 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 no Spatimi di sciù Prendiamo la macchia 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 Ora andiamo un po' con la dubstep, la conoscete? La conoscete? Grazie a tutti. 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 Quest'anno, 2012, sono arrivato terzo classificato con 2.000 partecipanti e anche i campioni del giovane della Basilica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.